9 e 10 aprile si sono appena chiusi i lavori della sesta edizione del corso mercuriale che si è tenuto appunto qui a bologna un corso che ha visto la partecipazione di più di 150 professionalità diverse è stato un corso sicuramente impegnativo da realizzare e abbastanza anche complesso però devo riconoscere che è stato anche molto stimolante perché ho visto la partecipazione attiva dei partecipanti fino alla fine dell'evento e questo diciamo che è una caratteristica abbastanza straordinaria ciao